Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfio Zappalà e oggi siamo in un nuovo video. In questo nuovo video vi racconto quanto è difficile fare il moderatore. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video vi racconto quanto è difficile fare il moderatore del mio canale YouTube. Cosa fa il moderatore di un canale? Il moderatore del canale ha il compito di vigilare i commenti in arrivo sul mio canale e praticamente prende una decisione e decide se approvarli o meno. Allora, praticamente io nel mio canale ho settato l'impostazione Trattieni tutti i commenti e vi spiego il perché. Per trattenere tutti i commenti del mio canale perché prima di andare online io ho la possibilità di valutarli e decide se approvarli o meno. Infatti io non sono da solo a fare questo cosa di moderare i commenti ma c'è il mio aiuto Pepponzo, lo facciamo insieme. Perché questo cosa va a fare ragazzi? Va a unire quella che è il lavoro di squadra che a me piace molto e praticamente io e Pepponzo quando io ricevo un commento sul mio canale io parlo con lui prima e insieme prendiamo la decisione se va bene lo approviamo ma se non va bene io rimuovo quel commento. Bene ragazzi con questo video è tutto spero che vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciate un mi piace iscrivetevi al canale attivate la campanella e le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi Grazie